Una giocatrice di grande livello e ci aspettavamo proprio questo da un talento come il suo. Va a canestro, un canestro particolarmente difficile di Russo, prende anche il fallo, niente da dire su il fischio. Incepibile, 5... In guardia, aspetta le uscite di Pastrello, lo riceve allora, arriva il blocco di Filippi Russo, che prende il tiro da tre punti, realizza la tripla, andrà in lunetta con il libero supplementare, 4 su 4 da tre punti finora per Filippi Russo. Russo Uh, grande partenza incrociata di Russo e arriva il timeout. Eh, schio adesso non sta più trovando le certezze. San Martino forse ha messo un po' di difesa in più con Russo e per cui Broni sta facendo un po' fatica e poi sta correndo. Qui, bellissimo assist da parte di Russo per un altro canestro del San Martino di Luguri, a tagliare in due la difesa, a mandare in solitario. La fila va a realizzare due secondi alla fine del primo quarto, Francesca Russo con la tripla, 24-10 fila San Martino di Luguri, che tripla di Francesca Russo. Da 10 metri quando stava per scadere il latino.